Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Stato Interessante Stasera parleremo del ruolo dell'informazione in questo paese di grandissimi fi... Suo papà l'ha abbandonata che aveva tre anni per tutorsi con un transessuale Qualcuno vuole dire la sua? Ma che bella trasmissione, somiglia con precisione La bottiglia marrone delle mie chiappone Dopo colazione, ma dov'è il pudore di queste persone Pagate per dare un'opinione, drogate dalla televisione Genitori orchi... Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!